La polemica anche con il presidente americano Trump, che ha definito di nuovo nei giorni scorsi alcuni quartieri di Londra una zona di guerra. Accoltellamenti, accoltellamenti, ha detto Trump, che sarà nella capitale inglese in visita ufficiale a metà luglio. Qui danno invece insulti razzisti sui campi di calcio, l'ultimo episodio durante un torneo di tredicenni nel Bergamasco. Gianni Bianco.